Cosa ci aspetterà nel sesto starter set di One Piece? Quali saranno le carte principali che dovranno essere prese in considerazione e sarà necessario acquistarlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Lo scorso 10 marzo ha fatto la sua comparsa nel TCG di One Piece il sesto starter deck completamente dedicato alla nuova tipologia cromatica presente nel set OP02, il nero, che ha visto finalmente la marina prendere parte alle battaglie svolte sui tavoli da gioco. Ma come Arconte? Ne parli solo ora? Sì, posso comprendere di essere arrivato in ritardo di almeno un paio di settimane abbondanti, ma ho voluto prendermi questo tempo in più per osservare da vicino quali elementi inclusi nello starter avrebbero svolto un ruolo da protagonisti nei vari deck presenti nei local e tornei maggiori sparsi in tutto il globo. E quindi, dopo due settimane di osservazione, sì, posso ritenermi soddisfatto e procedere con l'analisi più attenta di questo articolo. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo, crescendo, si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più, non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie di cuore in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme se converrà a acquistare il sesto starter deck di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Absolute Justice vedrà come leader l'ammiraglio supremo Sakazuki, che nel vostro turno, una volta per turno, al costo di 3 don, andrà a mettere KO o un character avversario con costo pari a 0 o inferiore se scarterete una carta dalla mano. Costo 0? In che senso arconte? Ecco la novità che apporterrà la venuta dei militari maritimi in gioco, ridurre il costo dei personaggi avversari già presenti in campo. A cosa servirà? Per innescare gli effetti dei character alleati che vorrete impiegare in battaglia o che già saranno pronti a combattere in gioco. Infatti, una volta che avrete preso possesso dello starter, vi renderete subito conto della tipologia di deck che potrete andare a giocare. Il nero infatti è la patria indiscussa dell'archetipo Control e tutti gli appassionati di questa categoria di mazzi troveranno in questo colore un punto di approdo più che valido per affrontare i vari match che gli si pareranno innanzi. In più le varie strategie che potranno innescarsi, grazie all'utilizzo delle singole carte presenti nella giustizia assoluta, vi permetteranno di fare piazza pulita di quei character avversari che potranno rappresentare un grosso problema. Come ad esempio la combinazione tra Hina e del Meppo che assieme al potere combinato del leader riusciranno a mettere K.O. un kid a costo 7 o la possibilità di sopravvivere ad un Kaido a costo 10 da parte di Smoker che vi permetterà di mantenere una presenza sulla board che risulterà essere oro contro l'effetto dell'ex imperatore del mare. Ma vediamo più da vicino quali saranno le tre carte fondamentali presenti in questo articolo, quelle stesse carte che potranno tornarvi utili soprattutto se vorrete montare un deck che farà della Marina la propria ragion d'essere. Di certo la duplice copia di Smoker guiderà questa lista, character davvero molto forte dato il suo rapporto costo-forza 7.000 costo 5 che non solo, come già accennato, non potrà essere messo K.O. dagli effetti delle carte, ma riceverà un preziosissimo doppio attacco assegnandogli un singolo don se sarà presente un personaggio con costo pari a 0 sul terreno rivale, fatto che sarà tutt'altro che raro. Altra coppia vedrà a garpa a costo 6 far parte delle carte più importanti. Costo 5 e 6.000 in termini di potenza, nella vostra fase principale, scartando una carta dalla mano ed esaurendolo, vi permetterà di mettere K.O. un character rivale con costo pari a 4 o inferiore. E data la presenza di elementi come già menzionati il Meppo ed Ina, lo vedremo fra poco, non sarà difficile far rientrare nel mirino dell'eroe della marina personaggi ad alto costo. Terza coppia vedrà Impact Wave concludere questo trio. L'event sarà giocato praticamente al 100% in ogni mazzo nero che si rispetti e rigorosamente in 4 copie. Con costo 2, l'attacco di Sengoku vi permetterà di aumentare di ben 4000 punti il valore di un character o leader presenti sul vostro terreno, mettendo di seguito K.O. un personaggio con costo pari a 3 o inferiore sotto il controllo rivale. In più l'abilità Trigger andrà a riproporre l'ultima parte dell'effetto principale, bersagliando questa volta però un character avversario con costo pari a 4 o inferiore. Oltre a questi tre pilastri principali ci saranno anche le presenze illustri di Tassigi, che di solito verrà giocata unicamente per il suo valore di counter, e Tsuru a costo 2, che avrà a disposizione esclusivamente la sua abilità Blocker. Di certo, Absolute Justice sarà un deck che rappresenterà la base reale del nero su cui tutta la strategia della marina avrà inizio. Consiglio quindi di acquistarne due per avere il playset completo di ogni singola carta da intercambiare all'occorrenza con altri elementi presenti nel mazzo senza pensieri. E ho capito Arconte, ma sai quanto costa effettivamente crearsi da zero un mazzo che ha i Marine come protagonisti? Purtroppo sì, ne ho piena conoscenza. Solamente i Kuzan a costo 10, nel mentre sto registrando questo video, si aggirano attorno ai 40 euro cada uno, e ve ne serviranno necessariamente 3, 2 nei casi più budget. Per non tacere dei borsalino e tutto ciò che servirà per fornire una struttura ben formata all'intero deck, e conti alla mano potrebbero volerci intorno ai 250 euro per riuscire a completare una lista fortemente competitiva. Sì, e per chi invece non ha intenzione di spendere così tanto e vuole solo divertirsi, magari provando la nuova dinamica di gioco introdotta proprio grazie alla comparsa dei militari. In tal caso, eccovi un paio di sinergie da testare in partita. Il trio Hina, più Elmepo, più Garp, riusciranno a mettere KO qualunque carattere esistente in gioco, dato che l'effetto dei primi due andrà a ridurre di ben 7 punti il costo di un personaggio avversario, e grazie all'abilità del vice ammiraglio potrete abbattere anche un Kaido a costo 10, dato che in questa circostanza risulterà avere un valore di costo pari a 3. Altro mix vedrà l'utilizzo delle due copie di Greater Option in sinergia con l'effetto del leader. Infatti spendendo 5 donne in totale, riuscirete a pescare due carte dalla cima del mazzo, andando di seguito a diminuire di 4 il valore di un character avversario per poi abbatterlo grazie all'innesco dell'abilità di Sakazuki. Questa combo risulterà molto efficace contro blocker fastidiosi come Boa. Queste due combinazioni di carte sono state pensate appositamente per chi possiederà una singola copia di Absolute Justice, e per fornire una base di partenza per comprendere al meglio il funzionamento della dinamica di riduzione costo. Speterà voi scoprirne di nuove per affinare sempre più le vostre capacità partita dopo partita. Conclusioni Lo Starter Deck 06 Absolute Justice verrà venduto ad un prezzo indicativo di 14,99€. Sarà il primo del suo genere a proporre la tematica della marina come fulcro principale. Rappresenterà una validissima base di partenza per tutti coloro che vorranno giocare deck di colore nero. Al suo interno ci saranno carte fondamentali come Smoker, Garp, Tassiji e Tsuru, che saranno di largo utilizzo nei mazzi meta di OP02. Possederne due copie vi permetterà di gettare le fondamenta per la costruzione di un deck competitivo se avrete voglia di investire nel gioco, altrimenti anche in singolo vi consentirà di sperimentare appieno la dinamica della riduzione di costo, introdotta proprio con l'arrivo sui campi di battaglia della marina. Quindi, alla luce di tutto ciò, converrà acquistare questo articolo? La risposta è non solo converrà, ma sarà anche necessario. Mettiamo caso che andrete a creare una lista senza Smoker, Garp e tutti gli altri. Senza la presenza di Impact Wave nel deck farete poco, dato che un event come quello, il più delle volte, non solo vi salverà da attacchi avversari, ma vi spianerà anche la strada verso le vite rivali. Per quanto riguarderà invece Sakazuki, attualmente non ho visto liste performanti con lui al timone, ma prima dell'arrivo di OP03 mi auguro di vederne qualcuna. Per il resto, se avrete intenzione di giocare nero, dovrete partire obbligatoriamente. Da qui, per poi concentrarvi sul perfezionare il tiro, reperendo carte fondamentali come Kuzan a costo 10 e compagnia cantante. Concludendo, credo che a differenza del suo predecessore, che ha visto Shanks in rosso guidare lo 0-5, Absolute sia il degno successore dei primi quattro starter, dato che apporterà un grande valore a tutti quei mazzi che faranno del fattore control la loro arma più potente. E voi abbandonerete la vita da pirata per intraprendere la carriera militare? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.